Il Ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, che è a Torino per partecipare a un dibattito organizzato al terreno del libro, conferma dunque l'allarme per i responsabili della sicurezza per quanto riguarda l'attentato di Genova e non solo, perché il Ministro dell'Interno ribadisce come la situazione che si sta vivendo in questi giorni, in queste ore nel nostro Paese è molto grave, cita il ferimento dell'amministratore delegato di affalto nucleare Roberto Di Notti, ma cita anche il clima che si è creato intorno all'Italia, cita gli affalto che ci sono stati ieri e le bombe monotone di questa notte e dice ricordate chi colpisce l'Italia colpisce lo Stato, non si possono modificare i fondamentali, possiamo discutere su tutto, ma sulle regole fondamentali non si può discutere. il Ministro ha divanto qui la bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao 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 Grazie a tutti.